Tra le cose più importanti ritrovate nel Tempio di Giove Olimpico figurano i telamoni, statue di pietra alte 7 metri e 75 centimetri che secondo gli studiosi non avevano funzione decorativa ma statica. Tre di queste colossali figure erano ancora ritte nel 1401 e appunto in quell'anno, esattamente il 9 dicembre, crollarono al suolo. I tre telamoni sono riprodotti anche nello stemma della città con il motto Signat Agrigentum Mirabilis Aula Gigantum. Il decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 2019 illustra così lo stemma di Agrigento, da azzurro ai tre giganti Encelado, Fama e Ceo, posti ignudi in maestà, uno accanto all'altro, la figura centrale femminile e le due laterali maschili sostenuti da un piedistallo e sostenenti con le braccia levate una piattaforma merlata su cui posano tre torri, il tutto d'oro, la torre di destra merlata di cinque pezzi caricata di una croce ottagona di nero, la centrale di altezza maggiore a pianta ottagonale merlata di sette pezzi finestrata a bifora di nero sulla facciata di mezzo con un'ostia eucaristica movente dalla sommità e caricata del trigramma YHS crocettato nella lettera centrale di nero, la torre sinistra merlata di cinque pezzi e caricata delle lettere greche maiuscole, lambda della omega e della leggenda abbreviata SMDIGN dello stesso, sotto lo scudo su lista bifida, svolazzante d'azzurro, il motto